ciao dai saluta gli amici del tubo tubo? si gli amici di youtube no non devo dire niente non devo dire niente, sei a tutta sei, sei a tutta oh mio dio che scatto? vuoi vedere un'impennata? no dai piccolina piccolina non è proprio mia se io non mi insegni ma io ti insegno, prima ti ho fatto una lezione ciao no 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 non così no 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 come prima si è iniziata la preparazione 2021 qua tua mia si no diciamo sia Ohhhhhhhh! Regarde il franci! No problem! Sì! Che poi le persone normali nello zaino si portano la giacca, le attrezze, la camera d'aria, noi invece la focaccia! E' io! Ok! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.